E ben ritrovati a Sportissimo, puntata numero 14 del settimanale di Fano. E' un alma Juventus fan che ha ormai la barra dritta verso i play-off, quarto posto consolidato dopo il successo sul Monte Giorgio, il terzo ancora teoricamente nel mirino, ma soprattutto chi segue, in particolare Matese e Porto d'Ascoli, è sempre più lontano. Della vittoria ottenuta domenica scorsa al Mancini e di quello che attende l'alma di qui alla fine della stagione parleremo stasera con Alessandro Bizzini, portiere della squadra Granata. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito. E con Mirko Severini, centrocampista della squadra Granata, buonasera anche a lui. Buonasera. Dicevamo di questa vittoria con il Monte Giorgio, un 3-1 maturato al termine di una gara che l'alma ha provato subito a indirizzare verso il binario giusto, ci è riuscita. Poi è arrivato il pareggio del Monte Giorgio, ma nel finale del primo tempo ha provveduto Severini a rimettere le cose a posto, in avvio di ripresa. Poi il risultato è stato in qualche modo blindato. Una vittoria che serviva soprattutto per riconciliarsi, ma forse l'espressione è un pochino eccessiva, con il proprio pubblico dopo la delusione rimediata con la Vigor Senigallia. È un episodio, si può dire, perché quest'alma ormai da diversi mesi sta marciando a ritmi decisamente sostenuti. È così, Bizzini? Assolutamente sì. Siamo in un ottimo periodo. Stiamo affrontando questi ultimi mesi di stagione con ottimo spirito, sia dal punto di vista proprio tecnico in campo, che anche come gruppo, come spirito. E sicuramente ci ha fatto male perdere in casa con la Vigor, ma ci ha sicuramente dato ulteriori certezze e forze su quello che è il nostro obiettivo e di quanto anche siano attaccati i nostri tifosi e di quanto sia bello giocare per una piazza come il Fano. Severini ha contribuito, dicevamo, in maniera determinante. Tra poco vedremo il suo gol a questo successo sul Monte Giorgio. È stata una partita, dicevamo, che avete approcciato nella maniera giusta. Poi forse un pochino di rilassamento dopo il vantaggio? Sì, siamo partiti. Ne parlavamo oggi, abbiamo visto il video della partita, i primi 15-20 minuti. Siamo partiti veramente forte. L'abbiamo messi subito là dietro. Eravamo intensi, veloci. Abbiamo creato subito occasioni con Zanni, la traversa, poi c'è stato il gol. E un attimo, sì, possiamo aver calato l'attenzione. È venuto il gol e non ci deve capitare perché è stato veramente un errore sciocco. È un gol che si poteva benissimo rimediare. Poi si è stati bravi a riprenderla, altrimenti la partita non era così facile. Poi il gol a scadere primo tempo ci ha dato quella spinta in più. Magari loro l'hanno demoralizzati, buttati giù e si è rientrati con un altro piglio. Il Monte Giorgio ha comunque fatto la sua parte. È vero che è una squadra con l'acqua alla gola, però aveva dei numeri che da una parte facevano apparire in maniera evidente i problemi in zona gol, ma dall'altra si trattava di una squadra che di gol non ne prendeva tanti. Infatti, allora loro, intanto portavano presupposto che è una squadra che è molto solida e poi aveva appena cambiato allenatore, quindi... Intanto ecco il gol di Severini. Esatto. È una squadra che punta a salvarsi, quindi è venuta Fano con grande grinta a darci battaglia. Non era assolutamente una partita scontata da sottovalutare. Era stato un avversario ostico, come all'andata, che è stato molto difficile ribaltare l'1-0 subito nel primo tempo. E quindi sì, è stata una partita comunque molto combattuta, risolta alla grande, portati in vantaggio, poi dopo anche, nonostante il gol subito, l'abbiamo comunque sempre comandata e portata alla nostra parte nel migliore dei modi. Quindi squadra ostica, nonostante i loro pochi punti, diciamo, perché in difesa sono molto forti e hanno qualità, soprattutto nella zona difensiva, nel reparto difensivo. Quindi tre gol, fargli tre gol è un ottimo risultato. Vediamo il terzo, probabilmente più un autogol che un gol di Napo, perché il tocco decisivo sembra essere di Diop. Montegiorgio squadra viva, il fatto di averla colpita appena prima del riposo, abbiamo visto 46-58, insomma Severini aveva il cronometro in mano, è stato probabilmente determinante. Sì, in quel momento era in equilibrio la partita, anzi magari loro avevano quella spinta in più dopo aver pareggiato il risultato. Come dicevo prima, aver fatto gol nel finale, nel primo tempo, ti dà quella calma, quella serenità, quella carica per rientrare consapevoli che comunque puoi fargli male e comunque c'è il risultato dalla tua parte. Nappello ti ha disegnato una traiettoria estremamente invitante, praticamente ti ha messo davanti al portiere. Tu ti sei trovato in una posizione un po' anomala, perché domenica hai iniziato a destra, poi sei traslocato per un po' a sinistra. Però in quel momento agili praticamente da interno. Sì, noi giochiamo 3-5-2, facevo il quinto a destra, poi il mister ha una certa ha deciso di cambiarmi con Carrà, infatti ci sono cambiati di fascia. L'azione è nata dal nostro sviluppo da dietro, poi abbiamo scambiato la palla a Iennappello. Era in quella zona di campo, appena ho visto che la palla arrivava a lui, sono partito perché conosco le sue qualità. Sapevo che una volta partito lui la palla l'avrebbe messa, stava solo a me a fare il movimento giusto. Poi ho provato a scavalcare il portiere con il pallonetto e è andato tutto bene. La festa di fine partita con i vostri tifosi, credo che si sia creato, in questo senso Bizzini ne ha già reso testimonianza, un rapporto molto solido, molto sincero e di grande aiuto reciproco. È così Severini? Sì, come ha detto prima Bizzio, magari c'era voglia di riscattare l'ultimo risultato in casa negativo, soprattutto un derby che era sentito da ambo le parti. Ci tenevamo parecchio a dare una soddisfazione al pubblico, visto anche il rapporto che si è creato quest'anno, perché comunque credo che da parte nostra ci sia sempre stato il massimo impegno e questo il pubblico l'abbia riconosciuto e ce ne danno atto. È anche la filosofia del mister con il quale sembrano avere un ottimo rapporto. Ripeto, ci tenevamo parecchio a riscattarci della prova un po' opaca avuta contro la Vigor. Andiamo a vedere i risultati dell'ultima giornata con il Pineto, che dopo aver tirato a mille per tutta la stagione sta accusando una flessione. La Vigor Senigallia però non è riuscita fino in fondo ad approfittarne. La squadra abruzzese resta l'iniziata numero uno per il salto di categoria. Dicevamo della differenza che l'Alma è riuscita a fare rispetto alle contendenti in quota play-off, Matese battute in casa dalla San Mariettese, Porto D'Ascoli rallentata dal team Mova Florida a Bizzini. Ormai sentite i play-off in tasca? Ormai li sentiamo e sì, potremmo dire che ci siamo. Manca un punto, un punto per la matematicità. La classifica ci può dare atto di questa valutazione? Manca proprio un punto per essere matematicamente all'interno dei play-off, però ormai ci siamo. Siamo carichi, mancano soltanto tre partite e poi dopo ce la giocheremo. Però ci siamo. Domenica prossima sul campo del Cizia Balonga una simulazione dei play-off in pratica. Sì, è un antipasto dei play-off. È una partita importante perché tutto il gruppo, compreso il mister, vogliamo fare risultato perché vogliamo arrivare ai play-off nel modo migliore possibile e quindi cercheremo di andare anche lì. Sappiamo che è una squadra difficile da affrontare, molto esperta, con degli ottimi giocatori. In casa nostra l'ha dimostrato. È una squadra molto solida a livello difensivo e sarà una partita bella tosta. E con indiglata di primo piano per la categoria, indubbiamente. Sì, è una squadra che comunque aveva progetti ambiziosi ad inizio anno, però comunque sta rispettando le aspettative. L'impressione, anche valutando i risultati delle concorrenti, che l'Alma abbia una voglia diversa in questo finale di stagione. È così? Assolutamente. Noi, se guardiamo il giorno di ritorno, da Pineto in avanti abbiamo fatto sicuramente un ottimo lavoro e siamo tra le squadre che hanno fatto più punti di tutti e quindi noi ci meritiamo la posizione che abbiamo in classifica e quindi daremo battaglia a tutti quelli che affronteremo dai play-off. Come diceva Mirko, il nostro obiettivo adesso è fare, in queste tre partite, più punti possibili, sperando di farne nove. E non guardiamo a quarto, terzo, quinto posto. Noi chiunque avremo contro ai play-off sarà battaglia. E il fatto che questi play-off in Serie D continuano o non continuano, mi pare non vi interessi più di tanto? No, a dire la verità no. È chiaro, avrebbe avuto un altro blasone se la posta in palio sarebbe stata il salto di categoria. Però comunque terminare l'anno nel migliore dei modi ti permette di avere più prospettive per il futuro. Comunque arrivare i play-off, giocarli e magari eventualmente vincerli è comunque una vetrina, fa curriculum e comunque in tutti gli sport piace vincere. Quindi ci proveremo con tutte le nostre forze. Severini i play-off li ha disputati l'anno scorso con la maglia del Tolentino. È arrivato a Fano, ovviamente al traino di Mosconi con altri compagni di squadra. È stato considerato giustamente una pedina fissa nella prima parte della stagione, poi è accaduto anche per il discorso under che sei scivolato in panchina. Ora ti stai riguadagnando spazio. Come hai vissuto quel periodo in cui, ben al di là dei tuoi meriti o demeriti, per la ragione di squadra sei stato costretto un po' a fare un passo indietro? Devo dire che, come dicevo prima, nello sport a tutti piace vincere e soprattutto nel calcio a nessuno piace stare in panchina. Sono state scelte del mister, inizialmente lo capite, lo conosco, so la stima che ha in me. Poi chiaro, non giocare, ripeto, non piace a nessuno, quindi un po' di malumore c'è, ma nel rispetto del gruppo, dei miei compagni, di tanti compagni che non hanno giocato, magari di quelli che vanno in tribuna, avevo il dovere, verso di loro, verso me stesso, verso la squadra, di allenarmi sempre al massimo. Farmi trovare pronto quando venivo chiamato in causa, perché tutti siamo importanti per questo gruppo, è quello che cerca di trasmetterci il mister. Quindi ho cercato di farmi trovare pronto quando venivo chiamato in causa e poi quando mi viene data più opportunità, più spazio per giocare, dimostrare che magari posso giocare dal primo minuto. Però la cosa che mi ha sempre aiutato è la fiducia da parte dei compagni, che quella l'ho sempre sentita ed era un motivo per continuare a darci dentro, diciamo. Abbiamo ripetutamente chiamato in causa Mosconi, tu lo conosci meglio di chiunque altro, assieme ai tuoi compagni ex Tolentino. È uno che si racconta abbastanza, quindi non sembra ci sia molto da scoprire, ma c'è qualche lato che pubblicamente magari non emerge? No, c'è da dire, il mister comunque, quello che fa vedere è quello che in realtà è un uomo con passione verso quello che fa, un uomo di carattere forte che non ti manda a dire le cose, sotto quel punto di vista una persona vera, quando c'è qualcosa che non va te lo dice. Ripeto, un carattere molto forte, quando giochi delle volte fuori dal campo lo senti che... Con espressioni anche colorite, diciamo le cose che è. Sì, però devo dire che ci ho fatto l'abitudine, poi in campo durante la partita succede a tutti, magari con quell'adrenalina in più, il fatto che sia la gara di un po' perdere le staffe, però sono cose che fanno parte del gioco. Bizzini, la panchina l'ha conosciuta di rado in questa stagione, domenica scorsa è accaduto, è stato dato spazio a Tommasino, qual è il tuo bilancio personale di questa stagione, premesso che deve ancora finire? Beh, allora, intanto io sono contentissimo di essere arrivato in questa squadra, in questa piazza, è il mio primo diciamo anno vero con i grandi, quindi è una grande soddisfazione aver disputato tutte queste partite, avere la fiducia dei miei compagni, del mister e della gente, quindi questa è la soddisfazione primaria e più grande. Poi i risultati stanno arrivando, le prestazioni sono state per la maggior parte buone, discrete, quindi sono molto contento. Ho anche un bellissimo rapporto con l'altro ragazzo, con Andrea Tommasino, che è più piccolino di me, però sto cercando diciamo di tenerlo sotto la mia ala e di aiutarlo il più possibile, soprattutto dal punto di vista emotivo. Che hai detto da uno di 21 anni, insomma, tenerlo sotto la propria ala, insomma, è abbastanza impegnativo. Sì, ma perché comunque sono già tre anni che vivo spogliatoi di ragazzi, di adulti e quindi... La tua esperienza in minima parte la si fa? Anche se è minima, più di lui sicuramente un pochino ce l'ho e quindi sto cercando di aiutarlo sotto questo punto di vista. e mi fa piacere che quando il mister ha bisogno di metterlo in campo, così si faccia sempre trovare pronto e faccia bene, mi fa molto piacere questa cosa. Questa stagione è stata impostata come una stagione di transizione in vista di una prossima stagione, in vista della quale prevedere traguardi un po' più ambiziosi. Vi sentite parte di questo progetto, parte di questa transizione in funzione di quello che verrà, Severini? Da una parte sì. Si è parlato molto di quest'anno di transizione, quando in realtà noi all'interno dello spogliatoio, già da ritiro, sapevamo delle nostre qualità e puntavamo a fare il massimo. Quindi non ci sentivamo come di dover fare quell'anno, come dicevi tu, di transizione. Chiaro, il prossimo anno si possono avere diverse ambizioni, però di questo preferisco non parlare, preferisco finire la stagione nel migliore dei modi, andarci a giocare questi play-off e dimostrare a tutti il valore del fan. Grazie a Mirko Severini, centrocampista a tutto fare dell'Alma Juventus Fano, grazie ad Alessandro Bizzini, portiere della squadra Granata. Noi torniamo fra qualche attimo. Una partita a tratti epica, quella che la Vigilar ha disputato domenica scorsa al Palace Allende contro Ortona, gara 1 della finale che vale la 2. Il finale però è stato amaro. La Vigilar, nonostante abbia condotto per 2-7 a 1, abbia costruito quattro match point in quel quarto set, ne abbia avuto a disposizione un altro nel quinto e decisivo, non è riuscito a portare a casa la vittoria e dovrà sabato prossimo ad Ortona cercare di tenere viva una serie che al momento lascia già aperta la porta al rimpianto perché Ortona è parso avversario alla portata di questa Vigilar, o meglio, di una Vigilar tutta intera, quella che non è potuta scendere in campo di fatto nella prima delle tre gare contro la squadra abruzzese, questo perché Gozzo non era disponibile a causa dei problemi alla schiena e nel corso del quarto set, quando la situazione era sotto controllo, si è chiamato fuori anche Ferri al suo posto, Giro Limetti, che ha potuto dare un contributo relativo, soprattutto in prima linea, addirittura nel quinto set impiegato da posto quattro Partegno, che in mestiere fa il palleggiatore. Una Vigilar che ha messo molto cuore, certo qualcosa da rimproverarsi, nel primo set era avanti 22 a 17, andata in tilt, in ricezione, su una serie non così irresistibile di Marshall, l'uomo che comunque nei momenti decisivi si è fatto sentire. Nel quarto set era comunque avanti 24 a 21, e quei tre match point non li ha certo giocati, con il massimo della lucidità e della precisione. Ora il primo obiettivo è recuperare al meglio quanti più giocatori possibili, tenendo conto oltretutto che anche Marx ha accusato qualche problema, come pure Roberti, facendo leva anche sull'apporto di Patriarca, che ha subito fatto lievitare la capacità di intimidazione sotto rete. Poi andarsela a giocare con coraggio in campo avverso, sapendo che la promozione in A2 diretta è ancora alla portata. Un'occhiata alla tabella e a dunque il prossimo impegno, sabato sera alle 20.30 a Dortona, eventuale gara 3 di nuovo a Fano il 25 aprile. Come sapete Sportissimo si pregia di far conoscere realtà che non sono note ai più. Fra queste realtà va inserita anche quella del tiro a volo Fano, una realtà significativa perché gode di un impianto tra i più apprezzati e suggestivi del territorio, come quello di Monte Schiantello. Del tiro a volo a Fano ospitiamo questa sera il presidente Stefano Battisti, buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. E nell'impianto di Monte Schiantello ha messo le radici, Mattia Polidori, tiratore delle fiamme azzurre, buonasera e benvenuto anche a lui. Buonasera a voi. Tiro a volo Fano, una storia che non è nata ieri neppure l'altro ieri, parliamo di qualcosa come 25 più anni all'interno di un impianto che abbiamo definito di particolare suggestione, di particolare prestigio, quello di Monte Schiantello che tra l'altro è stato recentemente ristrutturato. Facciamo un po' la storia del tiro a volo, come è nato tutto e come poi la cosa è andata avanti, Battisti. Allora, il tiravolo Fano ha delle radici molto antiche, nel senso che comunque già dagli anni 50 a Fano si praticava tiravolo con diversi appassionati. Poi nel 97 è nata la struttura, grazie all'amministrazione comunale, che ha voluto costruire questo impianto all'inizio due campi. Di cui vediamo ora una panoramica. Ok, all'inizio erano due campi che sono stati costruiti, la gestione di tutto è stata affidata alla società tiravolo Fano, che oggi compie 26 anni, perché è dal 97 che esiste, e pian piano, con l'aiuto dei soci, chi l'ha comunque amministrata fino a questo momento, siamo cresciuti per diventare un impianto che ha cinque fosse olimpiche, diverse tipi di specialità, perché da noi tutte le specialità del tiravolo possono essere praticate, e quindi siamo una struttura che a livello nazionale comincia ad essere apprezzata molto anche dai tiratori, perché ci permette di poter fare delle competizioni a livello nazionale e si potrebbe fare anche qualcosa in più, ma col tempo arriveremo a fare... E credo che non ovunque si goda di questo panorama. No, il panorama che abbiamo a Fano forse è più unico che raro per un campo da tiro a volo. Quindi sul mare ce ne sono veramente pochi in Italia con un panorama così bello. Dal punto di vista tecnico, invece, quali le caratteristiche di questa struttura? Come struttura viene rilevata come una di quelle abbastanza tecniche e un po' più difficili, perché comunque siamo soggetti sempre al vento in qualsiasi stagione. Poi d'estate magari avere un po' di vento che ti dà sollievo sulle giornate calde è anche meglio. Però diciamo che proprio per la sua difficoltà viene apprezzata anche per allenarsi. Difatti Mattia l'ha scelta proprio come sede di allenamento perché allenarsi dove ci sono difficoltà porta poi vantaggi quando tutto è più semplice o comunque in campi dove quelle difficoltà non ci sono. Quanti sono attualmente i praticanti? Guarda, noi come tiratori che sono tesserati a Fano abbiamo un centinaio di tiratori. Tra giovani, master... Ecco, età media più o meno. Età media sul tiro a volo di Fano è intorno ai 50 anni. Ma diciamo che ci manca un po' la base di giovani. Poi in Italia c'è un bel movimento a livello giovanile. Quindi se dobbiamo lavorare e speriamo di migliorare anche su quel lato lì, questa è anche un'occasione per far conoscere magari a quelli più giovani cos'è il tiravolo perché è uno sport che ha bisogno di essere conosciuto per poi praticarlo e capirlo. Magari invito anche quelli che ci stanno seguendo a venirci a trovare anche venerdì, sabato e domenica avremo una bella gara quindi possono apprezzare anche alcuni tiratori di livello a livello nazionale. La tradizione depone ampiamente per questo sport perché soprattutto a livello olimpico ha regalato all'Italia soddisfazioni enormi ma parliamo di un ragazzo che magari avrebbe interesse a provare. Si chiede magari se si deve dotare dell'arma cosa deve fare quali sono i requisiti anche per praticare questo sport. Proviamo a fare chiarezza. Allora, il tiravolo può essere praticato dai 13 anni in su. Chiaramente ragazzi che non hanno compiuto 18 anni non hanno un porto d'armi quindi o sono accompagnati da una persona che ha il porto d'armi oppure vengono da noi al campo saranno seguiti da un istruttore federale e l'arma la possiamo prestare noi perché abbiamo un fucile che è proprio per la scuola di tiro e chiaramente ci si mette d'accordo insieme all'istruttore si comincia un percorso quindi l'arma la forniamo noi le cartucce le possiamo fornire noi perché le vendiamo all'interno del campo e poi si comincia. Semplicemente basta venire su al campo chiedere informazioni e siamo praticamente disponibili a tutte le eventualità. Poi chiaramente con l'andare se a uno gli piace lo sport e vuole continuare chiaramente sarà il caso di dotarsi di un'arma adatta alle sue caratteristiche perché ognuno di noi poi ha un'arma fatta su misura. A Mattia Politori chiedo quali sono le qualità che fanno un tiratore quali sono appunto i requisiti di fondo che un giovane che si avvicina a questa disciplina deve avere? Guarda i requisiti possono essere la voglia di sparare di imparare a fare uno sport a mio avviso sano e pulito anche se abbiamo un'arma che rimane comunque sia uno sport molto sano e pulito senza mettere diciamo in gioco i calci i pugni perché il nostro avversario non è una persona ma è un piattello tra l'altro possiamo qui ammirare l'attrezzatura questo piattello in resina che bisogna centrare a quanti metri di distanza più o meno? Guarda la disciplina che faccio io che è la Fosso Olimpica abbiamo delle macchine posizionate a 15 metri e il piattello ci si allontana diciamo che il primo colpo lo spariamo intorno ai 28-29 metri e ecco come dicevo prima il nostro avversario non è una persona ma è un pezzettino di coccio di fatto di resina ecologica quindi l'unico nostro avversario è questo e poi parliamo anche dell'arma che viene utilizzata e delle cartucce esatto che occorrono l'arma questa qui che in questo caso è la mia personale è formata da un calcio una stina e delle canne diciamo che il calcio nostro nel fucile lo personalizziamo per ogni persona nostra e in questo caso questo calcio è fatto su misura per me in modo tale che come un vestito deve calzare alla perfezione come semplicemente gli scarpini per un calciatore esatto stessa cosa loro hanno gli scarpini e noi abbiamo un calcio di un fucile che deve essere presso poco adatto alla nostra fisionomia fisica e per quello che riguarda le cartucce le cartucce abbiamo sempre delle cartucce normali quelle che si usano anche per semplicemente per la caccia formate da pallini polvere e c'è un contenitore all'interno dove abbiamo i pallini che stanno dentro la cartuccia nel momento in cui esploriamo il colpo il contenitore parte che passa dentro questa canna e poi si apre e una volta che si apre il contenitore escono i pallini che vanno a colpire quel piattello Battisti costa fare tiro a volo e soprattutto scopriamo il campo da un equivoco è uno sport pericoloso visto che si spara allora parto dalla seconda domanda non è uno sport pericoloso anzi è uno sport che potrebbe a chi non conosce le armi dargli la consapevolezza di quello che è un'arma e quindi manovrarla rendendola ancora meno pericolosa perché come tutti gli attrezzi per noi l'arma è un attrezzo sportivo che serve per rompere i piattelli non offendere nessuno chiaramente qualsiasi cosa che troviamo intorno una sedia una racchetta un coltello può diventare un'arma se viene utilizzata male si tratta di strumenti di strumenti che vanno utilizzati sulle armi sai benissimo c'è un tabù che diciamo è quasi come dire difficile da abbattere sì perché l'arma è pericolosa no l'arma se uno la sa usare non è assolutamente pericolosa diventa pericolosa nel momento in cui uno non la sa usare o gli viene vietato magari lì non la toccare allora viene il desiderio di andare a fare una cosa che non andrebbe fatta se uno sa usare le armi è consapevole di quello che un'arma può fare tranquillamente non succede niente siamo l'unico sport a infortunio zero per fortuna perché dovesse capitare una cosa ahimè potrebbe essere pericolosa però siamo uno sport a infortuni zero probabilmente perché c'è massima attenzione ad adottare tutte le cautele necessarie c'è la massima attenzione ai ragazzi soprattutto che si avvicinano per la prima volta viene prima di portarli in pedana a sparare i piattelli gli si danno le nozioni giuste di come va usata un'arma di quello che è veramente un'arma di quello che fa un'arma e chiaramente poi noi quando si fanno e anche come ci si deve disporre assolutamente le regole delle pedane vengono spiegate tutte considera che quando fanno le gare dei raduni giovanili sono 300 ragazzi che hanno un'arma in mano e se tu li vedi sono persone responsabilissime vanno dai 13 ai 18 anni anzi 20 lo settore giovanile e tu vedi persone molto responsabili quindi c'è una crescita personale anche con questo sport e a proposito di costi? i costi come tutte le cose in questi ultimi anni sono un po' lievitati e chiaramente da noi quando si pratica il tiravolo sembra che il fucile sia la spesa maggiore ma in realtà è quella che la fai una volta poi ti dura nella vita con dei piccoli accorgimenti quando lo devi sistemare però non è la spesa maggiore chiaramente piattelli e cartucce quelli sono un consumo giornaliero dipende da quanto ti vai ad allenare o ti approcci a questa cosa poi il settore giovanile ha delle agevolazioni sia sui costi dei piattelli e sia anche sull'acquisto delle cartucce diciamo che non è uno sport proprio economico però alla fine una stagione può costare come una settimana bianca ad una famiglia voglio dire quindi è da scegliere se uno lo vuol fare o meno vogliamo fare chiarezza anche su un altro punto vige non so quanto sia luogo comune o meno l'idea che ci sia un'identificazione fra il cacciatore e il tiratore è così? Allora diciamo che l'estrazione maggiore dei tiratori viene dal mondo della caccia perché comunque sono due mondi molto paralleli noi stessi siamo cacciatori voglio dire non è che non è un problema chiaramente non sono due cose uguali la caccia personalmente questa è un'idea personale che ti dico è una passione che va al di là di quello che è l'abbattimento cioè c'è una conoscenza dietro della natura di quello che è il mondo che viviamo che prescinde da quello che è poi l'abbattimento il tiravolo è uno sport a tutti gli effetti che prevede l'abbattimento di un bersaglio il tuo avversario è quello nella caccia c'è un discorso di rispetto di regole natura che sarebbe molto ampio non basterebbe una giornata per parlarne ecco parliamo di risultati anche di eventi quanti ne avete organizzati quali avete in cantiere e chi avete allevato in questi anni che si è distinto poi a livello nazionale magari anche internazionale allora tiratori fanesi hanno una tradizione molto molto bella sono tiratori molto forti veniamo da tiratori che hanno vinto tanto pur non facendolo di professione perché comunque tiratori che sparano il sabato e la domenica e hanno vinto tante gare importanti la società ha cinque titoli italiani a squadra quindi è un ottimo risultato una società che ha vinto tanto è sempre stata sui podi d'Italia in tante competizioni tiratori forti ne sono usciti altri ne stanno uscendo al momento abbiamo uno dei ragazzi che fa parte della nazionale di skit tra i probabili olimpici che è nato a Fano oggi è in forza all'esercito si chiama? Struccioli Elia che doveva essere con noi ma per impegni con la nazionale perché partirà la prossima settimana per il campionato del mondo a Cipro non può essere qua però lui è uno di quelli che speriamo di vedere a Parigi nel 2024 e quello che riguarda gli eventi invece? Gli eventi in cantiere abbiamo due eventi importanti nel mese di luglio quelli più grossi che sono il trofeo Lisippo che è abbinato al memory al Liano Rossini Liano Rossini è un forte tiratore di Ancona prima medaglia al quale è intitolato anche il Pallas Sport esattamente che è stato il primo tiratore italiano a vincere la medaglia d'oro olimpica nel 54 a Melbourne poi l'anno dopo a Roma vinse l'argento quattro anni dopo chiaramente all'altra Olimpiade è una figura storica che ha dato in là tutto il movimento del tiravolo italiano tendenzialmente è di Ancona un personaggio che ci piace ricordare perché io l'ho conosciuto grazie al figlio che è tuttora nel mondo del tiravolo abbiamo fatto un articolo su di lui per una rivista specializzata è una persona che veramente completa al 100% su tutti gli aspetti era è una persona che per quell'epoca era molto avanti ha fatto veramente la storia del tiravolo e gli abbiamo voluto intitolare questo questo Memorial perché era giusto rendere omaggio a lui sempre a luglio ospiteremo il campionato italiano del calibro 20 che è una specialità è la stessa specialità ma viene fatta con i fucili con un calibro più piccolo a giugno invece avremo il raduno della nazionale giovanile qui a Fano si vengono ad allenare da noi ospiteremo anche una delegazione del Kuwait che ha scelto Fano per venirsi ad allenare e poi abbiamo il trofeo città di Fano ad agosto che sono gare sono calendari piuttosto nutrito sì invece venendo a Mattia Polidori qual è il suo calendario per questa stagione e cosa si porta dietro delle stagioni precedenti guarda per quest'anno mi sono messo in testa di provare perlomeno a vincere a vincere a provare a vincere i gran premi che faremo durante l'anno che poi ci serviranno per una qualificazione all'italiano all'anno finale per quanto riguarda le gare precedenti ho vinto due titoli italiani qualche anno fa e ho vinto nel 2021 una gara internazionale su a Todi l'Emir Cup e l'anno scorso mi sono classificato ottavo alla finale del campionale italiano della massima categoria che è l'eccellenza in sport come il vostro chiaramente la prospettiva da sogno è quella delle Olimpiadi e anche la tua sì sempre da arrivare più in alto possibile cioè noi ci alleniamo per raggiungere sempre il massimo che poi può venire meno quello è un altro discorso però noi ci impegniamo sempre da arrivare lassù in alto abbiamo detto del tirovolo che ha una tradizione eccellente allo stato attuale questa tradizione è ancora viva il livello è ancora molto alto in Italia il livello è molto alto sì negli ultimi anni devo dire che si è anche alzato un pochino e quando scendiamo in pedale per fare una gara cerchi sempre di dare tutto di rompere tutti i piattelli perché se ne sbagli uno da noi si dice sei morto quindi se sbagli un piattello ti ritrovi da in cima alla classifica in fondo alla classifica e quindi il tirovolo continuerà ad essere serbatoio di medaglie per lo sport azzurro un'ultima parentesi visto che queste medaglie le hanno portate anche le donne recentemente a livello femminile come siete attrezzati? a livello femminile qui da noi purtroppo sono poche le ragazze che lo praticano ci piacerebbe estenderlo anche a loro perché veramente può dare delle grandi soddisfazioni a livello nazionale ci sono delle campionesse che hanno fatto sia la storia molte che la stanno facendo abbiamo un bel movimento sulle ragazze sparano molto bene poi le ragazze italiane sparano veramente ci sanno fare sì perfetto grazie a Stefano Battisti presidente del tirovolo a Fano grazie a Mattia Polidori tiratore delle fiamme azzurre noi ci ritroviamo fra qualche istante nello sport ci vuole anche fantasia e la fantasia può servire anche ad inventarselo uno sport ed è una storia con questi tratti quella che ci apprestiamo a raccontare uno sport nuovo anche se relativamente nuovo perché ha già la sua piccola storia è appunto il city tennis e il city tennis è nato da un'idea di Francesco Gazzec che accogliamo questa sera buonasera e benvenuto grazie grazie buonasera a tutti con lui Davide Pagnini che ha aiutato a mettere a punto la macchina ed è ora il massimo interprete di questa disciplina numero uno del ranking buonasera e benvenuto anche a lui buonasera buonasera grazie allora domanda inevitabile che ti sarai sentito rivolgere mille volte come è nata l'idea del city tennis e quando è venuta questa idea l'idea è nata sette anni fa ero un giocatore di beach tennis un po' frustrato dallo sport del beach tennis perché comunque mi mancava il rimbalzo essendo un tennista incallito da 45 anni avevo bisogno di inventare qualcosa con il rimbalzo ma con quelle palline un po' più morbide e con racchetta senza le corde allora ho chiamato un giorno il nostro Davide per coinvolgerlo nel test di questo sport nuovo e lui mi ha detto di sì all'inizio pensavo che fosse impazzito invece mi ha detto di sì e abbiamo cominciato il test che poi è durato un anno e mezzo per questo sport nuovo che adesso abbiamo divulgato a livello regionale e tra un po' anche a livello nazionale proviamo a spiegarlo e a spiegare soprattutto i rapporti con il tennis con i beach tennis ed anche con il paddle che ultimamente ha avuto grande espansione allora il city tennis è nato ovviamente è una derivazione del tennis non ha le pareti quindi non ha nulla a che vedere con il paddle ed è in un campo più piccolo si gioca in un campo 14x7 con un racchetto le immagini aiutano a farsi un'idea esatto e diciamo che la racchetta è molto leggera lunga 40 cm possiamo mostrarla? sì abbiamo qui un esempio della racchetta e della pallina che è quella depressurizzata del tennis quella che usano i bambini per cominciare a tennis e questa qui è la racchetta invece originale del city tennis che è prodotto di un'azienda di Roma ed è una produzione specifica è una produzione originale fatta apposta per il city tennis quindi con questa attrezzatura con questa pallina e questa racchetta abbiamo subito capito che c'era un grandissimo potenziale perché è uno sport facilissimo da giocare molto più del tennis e ha degli scambi anche molto più lunghi perché con la palla più morbida è difficile chiudere il punto quindi tecnicamente è anche interessante perché è un'evoluzione del tennis ma molto più semplice più fruibile e anche molte volte più spettacolare a livello di punteggio quali sono le differenze e invece i tratti di congiunzione con tennis e simili? il punteggio è quello del tennis ma ridotto di un punto quindi invece di arrivare a 40 si arriva a 30 invece di arrivare a 6 si arriva a 5 nei game e nel tie break invece di arrivare a 7 si arriva a 6 le superfici possono essere le più diverse? tutte le superfici terra battuta resina cemento tutto Davide Pagnini cosa ti ha spinto ad affiancare Francesco Gazzè in questa avventura e come hai interpretato poi da atleta questa disciplina? allora mi ha spinto penso un po' la pazzia che ci accomuna perché come diceva Francesco io ho ricevuto quella chiamata la sua chiamata in un pomeriggio in cui non mi aspettavo assolutamente che l'argomento fosse fosse quello fosse lo sport anche tu eri praticante del tennis del tennis sì io tennista qualche volta anche io con amici lo sport da sabbia quindi il beach tennis e quindi da tennista agonista diciamo un serie D affacciato alla serie C quindi un buon livello mi arriva questa chiamata però a me piace a me piace tanto approfondire nuovi mondi e soprattutto dove c'è la creazione l'inventiva quegli aspetti lì mi appassionano molto e quindi ti senti un po' pioniere dentro sì sì pioniere dentro e quindi quando Francesco mi ha mi ha detto dobbiamo pensare qualcosa per sviluppare quest'idea perché uno sport che sia magari facile per tutti come il beach tennis ma che abbia il rimbalzo come il tennis che non sia frustrante perché il braccio può andare avanti essere sciolto nel colpo al rimbalzo non c'è e quindi lui questa è proprio la telefonata sua come facciamo? eh ce lo dobbiamo inventare in qualche modo e quindi da lì poteva sembrare solo un'idea un sogno e invece Francesco è uno che poi le cose le porta avanti quando ci crede e quindi il giorno dopo due giorni dopo mi ha detto ho prenotato una palestra e dobbiamo assolutamente provare a mettere in piedi qualche misura qualche qualche idea perché avete dovuto definire un po' tutto a partire dalle dimensioni del campo sì abbiamo dovuto definire tutto proprio tutto tutto perché prima del regolamento ovviamente dovevamo pensare alle misure del campo e della rete abbiamo iniziato con racchette da beach tennis con palline da tennis poi le abbiamo provate tutte le palline di tutte le varie misure e pressioni e man mano capivamo con il nastro carta nella palestra cercavamo di dire beh con queste misure del campo il passante è più efficace il pallonetto e quel colpo lì è più divertente quello meno quindi avete concepito le dimensioni del campo in funzione della varietà di colpi che potevano essere eseguiti sì esatto perché l'unico modo per testarlo era empiricamente in campo non c'era altro modo perché fare una proporzione con il campo da tennis era impossibile perché le racchette e le palline erano troppo diverse e quindi giocando anche 300-400 colpi di quel tipo e vedere che cosa succedeva nello scambio era l'unico modo e quindi ecco perché sono durati tanti test quindi abbiamo veramente empiricamente costituito il regolamento e alla fine c'è stato anche un po' di dubbio per gli ultimi 4-5 mesi perché non sei mai convinto poi di ufficializzare il regolamento dopo altri 6 mesi di tentennamento abbiamo ufficializzato il regolamento l'abbiamo pubblicato e abbiamo cominciato a divulgare lo sport e cosa è successo dopo? è successo che sono andato da Sportland ai bagni caffè Arzilla qui al mare e Roberto Marangoni è stato il primo che mi ha detto di sì per un campo che ti ha dato credito che mi ha dato credito e abbiamo fatto il primo anno da lui è stata una cosa incredibile perché c'erano le persone che facevano la fila per giocare e quindi lì ci siamo detti ok è nato qualcosa di importante e successivamente invece come avete sviluppato anche in altre realtà in altri poli questa disciplina? sì poi sono andato a Roma a trovare un altro campo e nel frattempo è partito Lucrezia indoor qui nel Lucrezia Beach diciamo erano dei campi all'inizio originali poi sono stati trasformati in campi di padel e noi giochiamo queste sono proprio le immagini di quel campo dentro un campo di padel con le righe del servizio del padel che sono le nostre righe di fondo e quindi abbiamo ottimizzato anche il gioco dentro il campo di padel e poi è nato Orciano Orciano di Pesaro al CT Orciano e poi la Trave adesso da pochissimo e poi alla Dispoli due mesi fa e tra una settimana andiamo a Bologna e partiamo probabilmente al CUS di Bologna all'Università di Bologna mi pare che l'idea fosse anche quella di creare uno sport che fosse praticabile da tutti avete raggiunto l'intento? Abbiamo raggiunto l'intento perché la cosa che insomma mi dicono quasi tutti è che è molto molto fruibile anche chi non ha mai toccato una racchetta in vita sua entra in campo e dopo un quarto d'ora è lì che si diverte come un pazzo e questa è una cosa che succede in pochissimi sport perché gli sport soprattutto tecnici ci vuole un anno un anno e mezzo di lezioni di pratica per cominciare a divertirsi veramente la cosa bella di questo sport è che dopo 20 minuti sei la giacchetta e ti diverti e te la godi questo per praticarlo poi per primeggiare cosa serve invece Davide? ma guarda è vero che è uno sport per tutti la cosa che a me è piaciuta molto da subito direi dopo i test abbiamo subito visto nelle persone che c'è una gamma pressoché infinita nel senso che è vero che dopo un quarto d'ora 20 minuti ci si può divertire già ma è anche vero che volendo approfondire la tecnica è uno sport anche molto tecnico anche a livelli tennistici quindi perché poi immagino al di là di definire le misure del campo l'attrezzatura occorreva mettere a punto una sorta di didattica sì esattamente sì perché noi poi abbiamo cercato da subito di staccarci dal tennis prendere l'impronta tennistica che era appunto il nostro motore la nostra passione ma staccarci dal tennis perché se no ogni volta noi ci dicevamo beh se siamo simili al tennis allora giochiamo a tennis e quindi cercavamo sempre di fare una cosa diversa non vi siete accontentati di essere una costola no no questo no soprattutto per una regola importante che è quella che non si può giocare due volte al volo consecutive quindi nel tennis chi conquista la rete ha conquistato la rete e quindi se non succede qualcosa di particolare il punto finisce lì nel nostro caso chi conquista la rete deve subito abbandonarla perché sia chi ha colpito al volo sia il compagno di chi ha colpito al volo non può colpire di nuovo consecutivamente al volo e quindi questo crea delle dinamiche completamente diverse anche dal tennis nel doppio e tornando appunto alle qualità per primeggiare quali sono? sicuramente la tecnica è importante anche in questo sport è molto importante chi viene dal tennis a volte è favorito in certi aspetti per esempio sull'impatto sulla palla però certe volte non è così ho visto e ho per esempio portato anche amici addirittura maestri di tennis a provare questo sport e non è facile per tutti i tennisti perché appunto ci sono aperture più ampie nel tennis e movimenti più ampi qui invece bisogna rivedere un po' la tecnica del tennis e accorciare i movimenti essere diciamo spinti sempre in avanti è un gioco verso l'avanzamento verso la rete mentre il tennis soprattutto ai giorni d'oggi tende a essere difensivo e a fare uno o due passi dietro la riga di fondo da noi invece è un po' al contrario bisogna avanzare io personalmente posso dire che ho trovato l'equilibrio tra la mia tecnica tennistica che era di buon livello niente di eccellente ma di buon livello con questo approccio qui che appunto è tutto un approccio diverso soprattutto mentale perché il gioco va giocato un po' in avanzamento per chi è un tennista alla Federer se possiamo fare un paragone perché appunto i più illustri possibili eh sì controbalzi avanzamento aggressione hai già fatto cenno a realtà in cui state introducendo questa disciplina forse il rammarico è che non avete risorse umane sufficienti per spingervi anche in altri territori sì appunto dicevo che al momento abbiamo pochi referenti ovviamente più campi riusciamo ad allestire più referenti ci saranno e quindi riusciamo anche ad avere più possibilità di sviluppo al momento insomma siamo nati da pochissimo l'abbiamo fatto la federazione da pochissimo tempo pochi mesi e quindi aspetto di consolidare qui il territorio diciamo dell'Italia centrale per poi arrivare in tutto il territorio nazionale e forse anche all'estero perché è uno sport che non ha confini perché comunque abbiamo avuto dei riscontri veramente incredibili e quindi sono molto positivo anche su questo anno e il prossimo per consolidare in Italia e poi eventualmente spostarmi anche all'estero in quest'ottica la figliazione AXI cosa vi può garantire? CSI ci ha dato una mano forte siamo partiti con ASI i primi anni adesso abbiamo questo accordo con CSI per il tesseramento e quindi stiamo andando avanti molto bene con loro ci ha dato una mano per i tornei a parte del tesseramento ma anche per dei programmi che abbiamo utilizzato per le estrazioni del doppio giallo quindi sono tutte cose che abbiamo fatto in collaborazione con loro e devo dire che insomma abbiamo creato un'ottima intesa sul piano delle competizioni quanto è riusciti ad organizzarne nell'arco della stagione? Il campionato si svolge senza tornei ed è anche questa una formula originale esclusiva del City Tennis perché è un sistema che ho creato quattro anni fa cinque anni fa ed è un campionato che si svolge con le partite di tutti i giorni dove un set è considerato una partita e un punto in campionato poi ci sono dei bonus che ovviamente vanno ad inficiare sulla classifica e poi c'è un algoritmo che decurta dal punteggio i set che uno ha giocato una percentuale dei set che uno ha giocato quindi è molto meritocratico nonostante che non ci siano tornei ed è una formula che sta funzionando tantissimo perché dal primo giorno che si gioca ci si vede già nella classifica e si può comunque confrontarsi con i giocatori anche di 300 metri 300 chilometri di distanza Si può quantificare un numero di praticanti grosso modo? Qui siamo a 500 praticanti 450-500 e adesso partiamo a Roma con 50 praticanti in più Bologna è un punto interrogativo perché stiamo aspettando di allestirlo e credo credo che potremo arrivare anche intorno ai 1000 praticanti alla fine dell'anno In cima a questa piramide c'è Pagnini sente questa responsabilità? Sì la sento la sento ma sono contento diciamo di essere qualcuno potrebbe dire sei stato avvantaggiato le regole le hai fatte tu è una voce che mi è stata accreditata mi è giunta spesso però io ripeto sempre mi piace essere un po' il precursore ma anche un po' il giocatore prototipo per ora ovviamente io spero sempre che ci sia qualcuno soprattutto nelle nuove leve perché poi dico sempre che lo sport come tutte le cose comunque il futuro parte dai giovanissimi ecco si avvicinano anche i ragazzini al City Tennis? Sì si avvicinano siamo in qualche scuola soprattutto anche d'estate essendo poi appunto che abbiamo dei campi al mare ci sono tanti giovani ed è bellissimo vedere i tanti giovanissimi perché proprio quei giovanissimi sono quelli da allenare poi quando avranno imparato veramente la tecnica e l'approccio del City Tennis allora saranno loro il vero prototipo e potranno anche batterli forse perché al momento non c'è nessuno che è in grado di battere Davide c'è l'ambizione a medio e lungo termine di essere riconosciuti da Alconi diventare uno sport a tutti gli effetti con tutti i crismi? io ovviamente lo spero molto devo crescere ancora tanto perché comunque ci vogliono numeri diversi per accostarsi sia alla Fitt che al Coni però credo credo insomma che la strada sia quella giusta non è semplice perché ovviamente parliamo di insomma uno sport neonato considerando che il padel e il pickerball hanno 60 anni di vita e si stanno sviluppando adesso in Italia quindi dobbiamo ancora crescere molto ora il cognome Gazzee vi dirà sicuramente qualcosa ebbene questo qualcosa che vi dice è realistico perché Francesco è il fratello di Max Gazzee l'autore dei testi di molte sue canzoni qui lo vediamo ritratto con Max che però ha qualche difficoltà a praticare il sito di tennis per mancanza di materia prima eh sì non ci sono i campi ancora a Roma vicino a casa sua adesso l'unico campo che c'è a Roma è dall'altra parte di Roma quindi ovviamente insomma poi con tutto quello che ha da fare purtroppo ancora non è riuscito a praticarlo qui abbiamo fatto una prova in questa foto eravamo lì a Vieste però non eravamo in un campo da sito di tennis ma eravamo in un campo da tennis con le racchette da sito di tennis anche lui comunque tennista lui tennista e non vede l'ora di cominciare anche lui perché non vede l'ora di entrare nella classifica anche lui del campionato come si concilia questa due dimensioni di uomo che fa sport e crea sport con quella di autore paroliere e anche autore di delle canzoni sì ma io ho diviso in due la mia vita adesso sono diviso fra la musica e lo sport e ovviamente da cinque anni a questa parte sono molto impegnato in questa cosa del sito di tennis ma ovviamente la musica è sempre il mio primo lavoro e lo sarà ancora insomma adesso stiamo preparando l'album proprio in questi giorni quindi però diciamo che da cinque sei anni a questa parte mi sono diviso in due tra sport e musica grazie a Francesco Gazzè inventore del sito di tennis grazie anche a Davide Pagnini che del sito di tennis è appunto il massimo interprete grazie anche a voi per averci seguito anche oggi vi attendiamo come sempre la settimana prossima grazie a tutti Grazie.